Ciao a tutti e ben ritrovati per questo post partita di Bari Parma 0 a 3 il risultato primo turno di Coppa Italia a eliminazione diretta e abbiamo di che festeggiare abbiamo di che festeggiare perché abbiamo visto un Parma che ha dominato la partita abbiamo visto un Parma diverso allora devo dire che diciamo che l'inizio è buono l'inizio è buono ma soprattutto la cosa che mi ha molto colpito è il fatto che il Parma senza Vasquez non pensavo cambiasse così tanto quindi forse questa mossa delle società è veramente una delle poche diciamo che ho visto azzeccate negli ultimi tempi nel senso che Vasquez centralizzava il nostro gioco lo rallentava molto ormai perché purtroppo il giocatore tecnicamente non si discute ma diciamo richiamava su di sé tutti i palloni nessuno si prendeva responsabilità né bene né male questo faceva sì che il gioco era molto molte volte lento e a volte si perdevano anche dei palloni come dico io sanguinose allora andiamo nel dettaglio e poi dopo facciamo una riflessione allora la cronaca della partita ci parla di un gol all'ottavo del primo tempo con Benediccia su un calcio d'angolo palla sulla destra Man che la crossa la difesa che la rinvia male e Benediccia che le due metri dietro al dischetto dell'area di rigore indovina un bel tiro angolato e imprendibile per Fattali la cronaca ci porta poi al 34esimo con un gol di Bonny che un'azione sulla sinistra messa palla messa in mezzo all'aria Somme raccoglie il pallone vede il compagno Bonny smarcato sulla destra gliela serve e tiro di Bonny e gol infine diciamo proprio per essere brevi abbiamo al 95esimo no 75esimo scusate concludiamo in bellezza con il bel gol di Tacco di Dennis Mann con un'azione molto veloce del Parma abbiamo anche qui una serie di fraseggi veramente molto belli e poi alla fine palla in mezzo e colpo di Tacco di Dennis Mann davanti alla porta e la butta all'angolino dall'altra parte un gol alla crespo diciamo così adesso detta così ma beh ci sono state anche altre cose come per esempio al 71esimo un bel tiro da Foriari di Bernabe che colpisce il palo no scusate colpisce il palo con una botta incredibile e poi anche il 77esimo con Sibilli che di testa prende la traversa allora però adesso entriamo nel dettaglio entriamo nel dettaglio dicendo che il Parma ha fatto tutto lui il Parma ha avuto non tante occasioni ma la concretizzate tutte praticamente o tutte o quasi quello che si è visto come vi dicevo mi è piaciuto è un Parma molto più veloce di prima un Parma che perde meno palloni e questo è positivo quali sono le note negative? sono sempre le solite le solite che abbiamo la difesa che adesso abbiamo ancora 20 giorni per decidere sul mercato cosa fare ma la difesa resta il vero tallone d'Achile di questa squadra perché Osorio non è un difensore affidabile si è visto anche oggi al 77esimo con Osorio che si dimentica Sibilli che colpisce la traversa di testa ma gli va alle spalle lui tranquillamente come al solito se lo perde e queste cose qua se fossimo stati 0-0 faccio un esempio in un campionato becchi un gol di testa così sei sotto di un gol e magari la partita prende una brutta piega in attacco si è visto che siamo Ciolac dipendenti nel senso che Ciolac non c'era però se non c'è Ciolac Bonny c'è e devo dire che è lui per me il titolare non certo Ciarpet-Antier che è come vero inglese quindi praticamente noi abbiamo Ciolac e Bonny però secondo me serve qualcosa in più vi faccio un esempio stupido se questa squadra qua adesso attenzione cosa vi dico per me è una cosa ovvia però magari per la società non lo è noi quest'anno così come sta giocando il Parma che sta appunto giocando bene e veloce e una cosa che non si è vista assolutamente negli ultimi anni allora dico il Parma sta giocando bene mi sta piacendo anche se il Bari è orfano di che dire ho mai sul mercato però è sempre comunque il Bari in casa che perde 3-0 una partita che vale vale il passaggio di turno in Coppa Italia partita secca quindi importante ok davanti al suo pubblico quindi provate a immaginare questa squadra con una difesa messa a posto perché manca in realtà questo tassello è il più importante la difesa a posto cosa che non è quindi finché domina il gioco bene quando magari non lo domina sono cavoli amari perché se ci chiudiamo in area con quella difesa che abbiamo adesso possiamo beccare il gol dell'anno scorso ok fino ad adesso abbiamo dominato ma non è detto che sarà così tutto il campionato ci credo poco in attacco attenzione perché abbiamo Bonni che adesso è diventato veramente esploso questa partita è stata bravissima e quindi magari Bonni è esploso abbiamo Ciole che sarà una garanzia però sono finiti lì gli attaccanti nostri perché abbiamo sicuramente un Dennis Mann che ha iniziato col turbo un Koulibaly che è stato irresistibile fino al novantesimo scattava da tutte le parti quindi abbiamo Begic che secondo me si ritaglierà sicuramente un bello spazio perché gioca bene è veloce però però in difesa non ci siamo in difesa non ci siamo anche se adesso si nota poco e quindi se mettiamo a posto la difesa almeno con un tassello valido prima della fine del mercato e se avessimo avuto quell'uomo qua guardate un attimo ecco quell'uomo qua e cioè Massimo Coda ok quell'uomo qua ci faceva beccare la serie A sicuramente perché siccome adesso la squadra sta giocando bene no ci metti quel puntero qua in attacco o uno come questo qua in attacco in difesa praticamente basta un centrale decente che non sia osorio e te sei a posto e vai in serie A sicuro invece così oddio ci puoi andare perché questa squadra sta giocando già bene adesso se viene messa a posto e è abbastanza costante come rendimento può sicuramente fare male a tutti però se ci avesse pedine di questo calibro là davanti insieme a Ciola che Bonnì no come alternativa o come titolare fisso direi perché questo sarebbe un titolare a casa mia ecco e una difesa messa a posto ma basta solo un centrale almeno un centrale ma valido cioè ci posso andare io al posto di osorio che è uguale cioè nel senso anzi secondo me di testa ne salvo di più magari di velocità no ma di testa perché c'ho la mia età però voglio dire non è possibile che in serie B ancora per l'ennesimo anno consecutivo noi ci dobbiamo affidare a osorio come centrale ma passi del prato va bene anzi sono sicuro che possa fare anche bene ma Circati sta facendo ci sta facendo le ossa ma almeno fa intravedere delle capacità ma Osorio fino adesso non ha fatto vedere niente sono delle cappelle quindi ok chiudiamo col discorso di Osorio quindi vi dico il Parma ha giocato bene abbiamo visto un ottimo Bonnì un ottimo Koulibaly ci sono giocatori che insomma daranno una grande mano tipo Bajic là davanti Ciolla o fa il fenomeno e non si rompe mai o Bonnì esplode come sta facendo in questo momento o se no non abbiamo garanzie diciamo io parlo del primo e secondo posto non è che parlo di andare a giocarmi in playoff quello lo so già che me li gioco assolutamente noi quest'anno se giochiamo se tanto mi dà tanto se il buongiorno si vede dal mattino cioè quelli sono assicurati però però ripeto bastava un minimo sforzo sul mercato soprattutto in difesa perché ragazzi la difesa non è stata toccata cioè io chi c'ho in difesa noi ci manca la difesa perché gli attaccanti ci metti anche un bambinello là davanti ad aggiungersi ai due che però sia un qualcuno valido cioè un esposito dell'Inter o del genere cioè non ti costa una cifra incredibile ma porco cane potreste ma beccati che dire a 4 milioni cioè costa 8 4 sono già tuoi il 50% è tuo con 4 milioni ti prendi che dire da davanti e vuol dire che praticamente nella difesa quasi non mi devo preoccupare perché con l'attacco che ci ritroveremmo chi è che osa attaccarci se da davanti hai tutto quel proprio di roba che ci ritroviamo noi più che dire per esempio però con un colpaccio del genere magari anche se la difesa non è perfetta te ti ritrovi che sei sempre a te che attacchi chi è che ti viene a insidiare hanno paura ma ecco allora chiudiamo adesso allora grande vittoria mi siete piaciuti mi è piaciuto il Parma assolutamente non si può dire niente hanno giocato benissimo hanno dominato ho visto dei fraseggi veloci che non li vedevo da quando c'è Vasquez per dire perché è bravissimo giocatore però effettivamente rallentava il gioco perdeva un sacco di palloni quindi il nuovo gioco non Vasquez dipendente mi è piaciuto assolutamente però ricordatevi ricordiamoci che il cos'è il 20 il 19 il 20 insomma c'è un altro campionato Parma Ferral Pisalò ok ecco lì è ovvio che devi vincere perché sennò è già un passo falso è ovvio però il discorso è che tu aspettati che c'è una Ferral Pisalò che usa in difesa io credo così almeno ecco quindi cosa vuol dire che oggi sei andato a Bari dove il Bari in teoria doveva fare la partita comunque ha giocato diciamo a viso aperto e quindi noi siamo già adesso abbastanza devastanti se poi ci avessimo quei due innesti top cioè uno in attacco e uno in difesa saremmo la squadra da battere e non ci piove assolutamente però ricordiamoci che il Ferral Pisalò invece sta in difesa chiuso con l'autobus davanti alla porta e quindi sicuramente riusciremo a far passare un gol cioè non esiste che non facciamo un gol contro la Ferral Pisalò in casa perché se no se no allora si parla di un inizio veramente negativo però però nonostante questo noi faremo fatica contro quelli contro quelle di alta classifica faremo ancora più fatica a meno che sai che Dira o qualcuno di questo genere è là davanti che fa sì che hai il Ciola e questa persona che ti danno delle garanzie che adesso non abbiamo perché se si rompe qualcuno dei due o Bonni o quell'altro stiamo a piedi in attacco e quindi dobbiamo attaccare con i vari Denis Men ok si può fare però è come l'anno scorso che avevi Vasquez o Som che li facevi giocare centrali in attacco lì il punto centrale cioè non ha senso quindi per evitare problemi non ci serve almeno un ragazzo buono giovane o mica giovane quello che ce ne voglia ma buono per la via assolutamente valido da mettere là come alternativa o come titolare dipende chi viene e se viene qualcuno perché il dubbio è quello lì e poi un difensore un difensore centrale ma prendi chi vuoi ma meglio di Osorio non puoi sbagliarci prendi anche a caso in una squadra che si sarebbe attuale e trovi sicuramente qualcosa di meglio ok detto questo io vi saluto vi ringrazio e fatemi sapere eventualmente cosa ne pensate anche voi di questa partita e del Parma in generale che sta costruendosi e niente lasciate il like e iscrivetevi specialmente se siete parmigiani ciao a tutti e forza Parma